E quest'oggi siamo con Mantarra e Petrangeli, lo spesso Artiglio e Trifone Calcio. Allora, parlateci un po' di questa partita. Noi loro hanno giocato sicuramente bene, noi ce l'abbiamo messa tutta, però non vai dai. Abbiamo perso, però abbiamo perso diciamo bene. È stata una partita difficile perché loro non erano molto bravi, però siamo stati bravi a concretizzare le occasioni a Guba. E' stata una grande partita. I vostri punti di forza? Essere l'uscita sotto porta. E invece voi che difficoltà avete incontrato oggi? Eh, erano molto bravi a giocare bene di prima e ci hanno messo un po' in difficoltà, però vabbè, dai, va bene. Come procede il torneo? Eh, purtroppo adesso noi siamo eliminati e quindi non ci vedremo con la norma. Ragazzi. E se potete non ci vediamo. Voi? Eh, bene, cercheremo di vincere anche la prossima partita per posizionarci per i più secondi e passare il turno. E allora grazie, un bocca al lupo. Ciao. Arrivederci. Ciao.